Da Radio Speranza va ora in onda, maternità e dintorni, a cura della dottoressa ginecologa Maria Sofia Perrino. E un giorno Dio ci ha chiesto di collaborare alla sua creazione. Abbiamo detto di sì, tra paure ed incertezze, con la gioia di attendere il nostro personale miracolo. I figli sono miracoli perché sono parte di un mistero, e sono dolori perché ti legano l'anima e non ti permettono di respirare autonomamente. Dal giorno in cui nascono non sei più tu che vivi, ma loro vivono in te. Che strano, queste parole non sono nuove, appartengono al Vangelo. Le ha pronunciate Paolo di Tarso, parlando della sua relazione con Gesù. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. I nostri figli, Maria, sono come tuo figlio, frutto di un meraviglioso scambio di amore e di vita, prolungamenti del Dio che si è fatto carne. Bentrovati, amiche ed amici di Radio Speranza. L'argomento che svilupperò oggi riguarda l'interruzione spontanea della gravidanza. Un figlio in arrivo rappresenta, fin dai primi momenti della gravidanza, più che un vero e proprio oggetto d'amore, un soggetto d'amore, con la quale madre e padre costituiscono un legame sia fisico che mentale. Ogni coppia, anche se con modalità differenti, procede durante tutta la gravidanza alla formazione di questo legame che si crea in modo complesso e inconscio. Le fantasie sul bambino, i desideri, le aspettative, le possibilità oggi di visualizzare precocemente il bambino in utero attraverso l'ecografia sono tutti aspetti che contribuiscono a promuovere un saldo attaccamento tra genitori e feto allo scopo di consolidare il fisiologico ma difficile passaggio da coppia a famiglia al momento della nascita. Quando muore un embrione o un feto, si verifica in modo improvviso e violento l'interruzione di questo legame. Tanto più si verifica tardivamente, tanto più viene a mancare il soggetto d'amore, il fine ultimo di tutta la preparazione conscia e inconscia, fisica e psicologica, affrontata dalla coppia. Nelle primissime fasi della gravidanza, per motivi soprattutto ormonali, sono soprattutto le madri che si sentono cariche di quest'amore per quel bambino per ora soltanto immaginato. Tutte le donne che perdono un bambino in gravidanza, indipendentemente dall'epoca gestazionale, vivono un'esperienza di lacerazione per un evento definito non naturale e per questo totalmente al di fuori di una realtà che può essere compresa e soprattutto accettata. Il miglior momento per avere un'altra gravidanza è quando la coppia si sente pronta, sia emotivamente che fisicamente. In genere si consiglia di aspettare almeno un paio di cicli mestruali, specialmente se sull'utero si è praticato un intervento, quale la revisione di cavità uterina, detto anche raschiamento. Per prepararsi ad una successiva gravidanza è bene avere prima di tutto cura di sé con una dieta sana e regolare ed iniziare una supplementazione con acido folico per migliorare l'effetto protettivo nei confronti di alcune malformazioni fetali quali i difetti del tubo neurale. Con il termine di aborto si definisce l'interruzione della gravidanza entro i 180 giorni dalla data di inizio dell'ultima mestruazione che corrispondono cioè a 25 settimane e 5 giorni. Nella maggior parte dei casi l'aborto spontaneo si verifica nel corso del primo trimestre e le possibilità che una gravidanza evolva in aborto è molto più elevata di quanto ci si possa pensare. Infatti gli aborti spontanei rappresentano il 15-20% delle gravidanze. Solo nel 2% dei casi delle donne si verificano due aborti e nello 0,5-1% tre o più aborti. In questo caso si parla di abortività ricorrente o poliabortività condizione che determina la necessità di approfondimenti specialistici. Le cause di aborto spontaneo sono molteplici. Nel 50-70% degli aborti del primo trimestre si riscontrano anomalie cromosomiche e la frequenza aumenta con l'aumentare dell'età materna. Anche l'alterazione del cariotipo dei genitori può essere causa di aborto e ciò crea cellule uovo o spermatozoi con corredo genetico alterato. Vengono chiamate in causa anche alterazioni e anomalie uterine. Per esempio la presenza di fibromi uterini specie se a localizzazione sottomucosa cioè proprio al di sotto della parte dove si impianta l'uovo ostacolano proprio l'impianto dell'embrione. Altre malformazioni, per esempio l'uterosetto o l'incontinenza del canale cervicale cioè quando la cervice risulta così debole che si apre sotto il peso dell'utero. Sono chiamati in causa anche fattori immunologici quindi la formazione di autoanticorpi cioè quelle che sono denominate malattie autoimmuni. Anche alcune infezioni contratte durante la gravidanza fanno sì che gli agenti infettivi possano attraversare la placenta infettare il feto e quindi possono causare oltre che malformazioni anche la morte dell'embrione o del feto. Un'altra condizione abbastanza frequente è la trombofilia condizione in cui il sangue coagula in eccesso e ostacola il normale adeguamento circolatorio a favore della gravidanza. Vengono poi tirate anche in ballo alcune situazioni materne tipo patologie renali croniche, diabete, ipertensione arteriosa, alterazioni della tiroide. Queste però se correttamente trattate e tenute sotto controllo non sono causa di aborto. Un'altra condizione molto frequente è l'insufficienza del corpo luteo. In questo caso ricordo che il corpo luteo è quello che residua allo scoppio del follicolo in caso di insufficienza del corpo luteo esso non produce abbastanza progesterone che è necessario per l'impianto e il mantenimento della gravidanza nel primo trimestre. Spesso però nella maggior parte dei casi non si riesce a trovare la causa che possa aver determinato l'aborto specie quando questo è stato occasionale. In caso contrario in caso quindi di aborto ricorrente bisogna cercare di identificare la causa per rimuoverla. Si parla di minaccia d'aborto quando vi sono sintomi quale dolore pelvico o perdita di sangue che fanno temere il rischio che la gravidanza possa interrompersi con un aborto tuttavia vi sono segni che indicano che la gravidanza è ancora in corso. Per esempio potrebbero esservi perdite di sangue ma l'ecografia può permettere di visualizzare l'embrione con il suo battito cardiaco. L'ecografia in questi casi mostra la presenza di aree di distacco amniocoriale cioè un distacco che si stabilisce tra il sacco amniotico e il sacco coriale con la formazione di ematomi sottocoriali. La presenza di un distacco amniocoriale o di un ematoma di per sé non pregiudica il normale proseguimento della gravidanza ma si devono osservare soltanto le comuni precauzioni e cioè riposo al letto e assunzione di progesterone che ha lo scopo di rilassare la muscolatura uterina. Talvolta non vediamo segni ecografici che possano spiegare il sanguinamento in atto. In questi casi si pensa che o esista una piccola area di scollamento da cui il sangue esce senza accumularsi in un ematoma o che il sanguinamento provenga dal collo uterino che in gravidanza subisce delle modificazioni o dalla presenza di un piccolo polipo cervicale che in gravidanza diventa particolarmente vascolarizzato. Purtroppo in alcuni casi la minaccia ad aborto diventa aborto spontaneo e soprattutto quando il sanguinamento aumenta e compaiono intensi dolori uterini legati alla contrazione dell'utero che cerca di espellere il prodotto del concepimento. Un aborto si definisce completo quando si verifica spontaneamente l'espulsione totale del materiale abortivo cioè dell'embrione e della placenta. Questa situazione si verifica più frequentemente nei periodi precoci della gravidanza cioè tra la quinta e la settima settimana. In questi casi può verificarsi un episodio di emorragia di entità variabile accompagnato da dolore in sede pelvica. Entro alcuni giorni emorragia e dolore regrediscono e in occasione del controllo ecografico non si evidenza alcuna immagine da riferire a residui abortivi in utero. In questi casi si può anche evitare di eseguire la revisione della cavità uterina. Nella maggior parte dei casi di aborto ci si trova di fronte ad un aborto spontaneo incompleto cioè con la morte dell'embrione o del feto si interrompe l'evoluzione della gravidanza e si verifica l'espulsione parziale del materiale abortivo. Con l'ecografia si evidenzia la persistenza nell'utero di residui di materiale. in questo caso è necessario procedere al ripulire l'utero mediante l'isterosuzione o la revisione della cavità uterina. L'evedienza di un aborto interno o ritenuto spesso non si associa a sintomi molto chiari. In questi casi la morte dell'embrione o del feto può non comportare anche alcun sintomo. talvolta l'unico segno che fa sospettare l'aborto è la scomparsa dei comuni sintomi della gravidanza quali la nausea o la tensione al seno. Dopo un periodo variabile che può durare alcuni giorni ma anche alcune settimane dopo la morte dell'embrione compaiono perdite di sangue e dolore al basso ventre. Molto spesso la gravidanza di aborto ritenuto viene fatta casualmente in occasione di un controllo ecografico. In tale circostanza si evidenzia l'esistenza in utero di una gravidanza ma senza segni di vita del feto cioè non è riscontrabile il battito cardiaco e i movimenti fetali. Questo spesso risulta di dimensioni inferiori a quelle attese per l'epoca della gravidanza. Talvolta invece non risulta proprio visibile e l'ecografia mostra soltanto la camera gestazionale vuota. Questo è il caso del blighted ovum o uovo bianco in cui si sono differenziate soltanto le cellule che hanno dato origine alla camera ovulare ma non quelle da cui sarebbe derivato l'embrione. La diagnosi di aborto nella maggior parte dei casi si fa con l'esame clinico e con l'ecografia. Questi sono sufficienti a chiarire la situazione. Il beta-HCG è un ormone che viene prodotto molto precocemente nelle prime fasi della gravidanza e la sua determinazione effettuata in prelievi seriati consente di documentare la sua produzione da parte della placenta e ci dà informazioni sull'andamento della gravidanza. Un mancato incremento o addirittura una diminuzione depongono per una interruzione della gravidanza. Ovviamente la diagnosi di certezza si basa sulla mancata visualizzazione del battito cardiaco in ecografia. Un'altra evenienza che si verifica soltanto nell'1-2% dei casi di aborto spontaneo è la gravidanza extrauterina una condizione in cui l'embrione si impianta in una sede anomala per esempio a livello della tuba o dell'ovaio o della cervice uterina o addirittura in addome. La gravidanza extrauterina è un'evenienza molto pericolosa che può mettere a rischio la vita della donna. Infatti la rottura improvvisa per esempio della tuba può essere causa di un'abbondante emorragia interna. È quindi consigliabile in tutte le pazienti con ritardo mestruale sanguinamento anomalo camera gestazionale non visualizzata in utero prendere in considerazione la possibilità che si tratti di una gravidanza extrauterina e quindi seguire la donna con molta premura mediante un dosaggio seriato delle beta-HCG e frequenti controlli ecografici. Cari amiche ed amici vi do appuntamento alla prossima settimana con la rubrica Maternità ed Intorni grazie dell'ascolto Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Maternità ed Intorni a cura della dottoressa ginecologa Maria Sofia Perrino per la dottoressa per la dottoressa per la dottoressa Grazie a tutti.